Buongiorno a tutti, buona domenica. Chiedo scusa per il ritardo del video ma per motivi personali non sono riuscito a farlo prima. Dagli amici dei senza giacca dalla pancia del tifoso il vostro Davide cercherà di commentare la partita di ieri dove il nostro Torino è andato ad espugnare il Dacia Arena di Udine, un 2-0 che non dà possibilità alcuna di recriminazione, anzi abbiamo dominato la partita contro una squadra in grossissima difficoltà. Per una volta siamo andati a Udine uscendo bene perché è sempre stato un campo ostico per noi. Una menzione particolare la vorrei destinare a due giocatori, di nuovo Gineitis che ogni giorno mi sorprende sempre di più, a Occhereke che ieri comunque è stata un'ottima spalla per Duvan Zapata. Sulla Pantera Duvan cosa dire, se non ci fossero stati i gol di Duvan non saremmo il posto dove siamo in classifica, è un signor giocatore, un signor attaccante e a me piace un gran bel po', credo piaccia a tutti perché comunque caratterizza il nostro DNA, è un lottatore dall'inizio alla fine, destina tutto se stesso, nella sua tecnica, nella sua audacia, nel suo ardor, nel suo modo di giocare, come piace a me, scusate il parallelismo come giocavo Paolino Pulici. Un paragone molto difficile da digerire per qualcuno, però era soltanto per far capire come, oppure come un velotti, i velotti dei migliori tempi. Niente cosa dire, abbiamo 41 punti, abbiamo superato la soglia della matematica salvezza, il nostro Cairo è contento, siamo tutti felici contenti, vediamo come va a finire questo campionato, siamo alla 29esima giornata, ne mancano 9, vediamo se siamo in grado di coronare un sogno o di vivere il solito campionato mediocre da centro classifica. Niente, buona domenica ragazzi, ci godiamo questo bel successo e poi vediamo le prossime. Ne abbiamo due adesso da abbordabili, tra virgolette, per vedere se riusciamo a riprendere questo treno dell'Europa. Un abbraccio a tutti dal vostro Davide, forza Toro, sempre e comunque contro chiunque, anche contro quelli ragazzi, quelli là di Venaria. Un abbraccio invece ai miei due, ai miei tre amici di Udine che ho conosciuto la settimana scorsa, dei Senza Giacca. Mi dispiace per il risultato finale, questo è il calcio. Però ho conosciuto tre bellissime persone, una dedica speciale la faccio a loro. Ciao ragazzi, buon tutto.